Numeri super. Nella sua storia l'Inter aveva incassato meno di tre reti dopo i primi sette turni di campionato solo una volta, nel 1966-67. In panchina c'era Elenio Herrera e quelli erano gli ultimi ruggiti di una squadra leggendaria. I nerazzurri, che chiusero secondi alle spalle della Juve, vinsero tutte le prime sette gare. Incassarono il primo co alla decima a Bologna, 3 febbraio, dove arrivarono con otto successi e uno pari, e in quella striscia l'unico gol al passivo arrivò nel mat casalingo contro la spala opera di un certo Fabio Capello. In altre occasioni invece le reti subite sono state tre. L'ultima volta è successo nel 2010-11 a Benitez, la squadra chiuse seconda e vinse la Coppa Italia con Leonardo in panchina, ma era accaduto, anche nel 1988-89. L'anno dello scudetto dei Ricord, nel 1986-87. Terzo posto finale, nel 1981-82. Quinto posto, nel 1979-80. Scudetto, nel 1972-73. Quarto posto, 1964-65. Scudetto, e 1963-64. Secondo posto. A conti fatti, quando ha avuto una simile solidità del pacchetto arretrato, l'Inter ha sempre chiuso tra le prime quattro, risultato che garantirebbe la partecipazione alla Champions nel 2018-19, eccetto una volta.